Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa, l'ancora alta pressione protagonista in Liguria con sole e temperature stazionario in lievamento e qualche locale rovescio pomeridiano nelle zone interne. Il dettaglio oggi martedì 9 agosto, sereno lungo i tratti costieri, addensamenti cumuliformi sui rilievi e le zone interne nelle ore più calde e possibili rari isolati piovaschi associati. Venti in prevalenza deboli settentrionali, regimi di brezza anche tesa, mare poco mosso ovunque, temperature massime stazionario in lievamento lungo la costa tra 32 e 36 gradi nelle zone interne in torno a 32 e 33 gradi. Domani mercoledì 10 agosto, in prevalenza sereno, addensamenti cumuliformi sui rilievi alpini nelle ore centrali con possibili locali rovesci associati. Venti in prevalenza settentrionali, locali, regimi di brezza costieri, mare localmente mosso sui capi esposti di Ponente al mattino, poco mosso altrove, temperature minime in lievamento lungo la costa intorno a 25 e 26 gradi nelle zone interne tra 15 e 19 gradi, massime stazionario lungo la costa tra 32 e 35 gradi nelle zone interne in torno a 31 e 32 gradi. Dopodomani giovedì 11 agosto, poco nuvoloso al mattino e alla sera, addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane sui rilievi a zone interne dove non si esclude qualche debole locale piovasco, 27 entrionali fino a moderati a Ponente, mare localmente mosso sui capi esposti di Ponente al mattino, poco mosso altrove, temperature minime stazionarie lungo la costa intorno a 25 e 26 gradi nelle zone interne tra 15 e 18 gradi, massime in lievamento a calo lungo la costa tra 31 e 34 gradi, nelle zone interne intorno a 31 e 32 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!